Gli ultimi giorni per il mondo della letteratura, anzi per il mio microcosmo letterario, sono stati abbastanza emozionanti, concitati. Molteplici sono stati gli avvenimenti che mi hanno coinvolto, direttamente o indirettamente. E forse è arrivato il momento di dare una piccola spiegazione su come io vedo il mondo della letteratura e cosa ho provato nelle ultime ore. Tutto è partito con l'atto politico di Fulvio Abate. Questa autocandidatura al premio strega mi ha sinceramente emozionato. È stato un atto di guerra diretto, in your face, senza mezzi fronzole, a costo di sputtanarsi col mondo, contro l'amichettismo. Un male che colpisce il mondo della letteratura e non solo, bene o male, a tutti i livelli. Non c'è circuito dove non regni una sorta di amichettismo. E devo dire che la successiva risposta del comitato dello strega che avrebbe rifiutato questa provocazione di Fulvio, di autocandidatura, perché al loro dire per partecipare allo strega devi essere presentato da un amico della domenica, mi aveva lasciato un po' basito. C'è una vacazio normativa nel codice dello strega, perché se io sono un amico della domenica da oltre 22 anni e sono un giurato e allo stesso tempo sono uno che può presentare le opere, anzi che deve presentare le opere, fondamentalmente dobbiamo discuterla se io posso o non posso presentare un'opera. Sembra che alla fine un'anima pia, cioè un'amica della domenica, di cui adesso mi sfugge il nome, si sia offerta di presentare l'opera di Fulvio, lo stemma, perché appoggia la sua lotta contro l'amichettismo. Amichettismo che Fulvio ha gridato ai 420 e è arrivato a infettare anche un premio come lo strega. Ma non pensatevi che sia un problema solo ed esclusivamente dello strega l'amichettismo. L'amichettismo, abbiamo detto, sta a tutti i livelli. E mi ha portato a riflettere anche l'ultimo video di Fabrizio Valenza, del ex canale Narrazione e Vita, oggi si chiama L'albero del mistero, Fabrizio Valenza, che vi invito ad andare a vedere, nel quale lui si pone una domanda vecchia come il mondo, quasi come è nato prima l'uovo o la gallina, e si chiede perché si scrive. E devo dire, ha sviluppato come al solito una riflessione estremamente valida e estremamente interessante, che uno può condividere o non condividere, non sto dicendo che a prescindere quello che ha detto il verbo, però merita un ascolto. Oltre a ciò sono stato vittima di una serie di, tra virgolette, uso una terminologia bellica, magari fuori luogo, di attacchi, perché praticamente ho stroncato ciò che nel microcircuito della letteratura e nel microcircuito dell'ambito amichettista non si può toccare. Ovvero sì, ho stroncato ciò che a prescindere va difeso. Purtroppo parole come verità, onestà, trasparenza non fanno parte dei circuiti amichettisti che ragionano con le emoticons e ragionano con gli scambi di favori, no? Ricordatevi, se c'è una cosa che dovete temere, è il lupo travestito da agnello, il pacato, colui il quale è pacato in ciò che dice e vuole essere piacevole a tutti i costi, ammaliante, no? Un affabulatore è il vostro primo nemico. Quando vedete un recensore che ha il sorrisetto così da finto simpatichino, sa tramutare la sua ignoranza in sapienza, sapienza al suono, non nei fatti, vi pone quelle domande stupidine d'amore di ratino, abbiatene sempre timore perché l'inculate è dietro l'angolo. L'amichettismo è questo, o almeno è anche questo, è finzione a fabulazione, è presa in giro, è mostrarti ciò che non è in funzione di cosa del mio interesse e il mio interesse di amichettista è l'esatto opposto del tuo, anzi va contro al tuo. Un esempio facile che può essere anche un consiglio di lettura per voi tutti. io vi dico, compratevi di Edgar Allan Poe i letterati di New York City. I letterati di New York City sarebbe una raccolta delle più belle recensioni che fece Edgar Allan Poe perché Edgar Allan Poe oltre a essere il più grande, uno dei più grandi scrittori della nostra letteratura, era anche un critico letterario. Ma era un ghettizzato, era emarginato. Perché? Perché non era un amichettista. Fin da allora, fin dai primi dell'Ottocento, esisteva una critica letteraria che andava a braccetto con gli interessi di questo, quello, per supportare questo, quello. Se leggete le parole che sono all'interno di questo collage di recensioni, vi rendete conto che il ragazzo non ci andava leggero, specialmente quando doveva dire che una cosa era una merda. L'anti-amichettismo è tutto qua dentro, da un punto di vista letterario. E chi vi dice che ama Poe, però non segue anche il suo esempio culturale, è un finto. Io non posso essere un moderato. Io posso essere solo un esaltato. Un esaltato sia in senso positivo sia in senso negativo. In positivo perché quando si trova raramente qualcosa che vale veramente, ragazzi, bisogna urlarlo. Come bisogna tutelare voi perché i soldi sono i vostri quando qualcosa fa schifo al cazzo e dobbiamo uscire fuori dal circuito sei mio amico, perciò ti tutelo a prescindere. Perché è quello il male della letteratura e del mondo. Essere intellettuale oggi cosa vuol dire se non mettersi contro questo tipo di circuiti? Non vi pensate che la vita da questo lato della telecamera sia tranquilla? Continuo a dirvelo. Insulti e minacce in privato da scrittori, amici e scrittori non sono pochi che ne ricevo. Ma cosa devo fare? Devo mettermi in fila come gli altri? Ci sono alcuni canali YouTube, alcune pagine Instagram e alcuni TikToker che sembrano proprio al soldo di alcune case editrici. Ed è uno scandalo. È una cosa vergognosa. Perché questi comunicatori pur di stare nel circuito amichettista e di far parte dei famosi salotti buoni come altri scrittori che vogliono far parte di questi proprio salotti dicono la qualunque portano avanti delle nefandezze letterarie inenarrabili. State sempre attenti. Sempre. Quando vedete un Fulvio Abbate che porta avanti un gesto politico forte come l'autocandidatura allo strega vi faccio riflettere non è megalomania lui non ha bisogno né di vendere copie né di farsi conoscere perché lo conoscono tutti. Nel mio piccolo quando vedete me che magari sembro posseduto nella stroncatura di qualcosa vi faccio riflettere siamo tutte persone che apparentemente anzi siamo tutte persone che vanno contro i propri interessi perché vanno contro il circuito amichettista. L'urlato non è l'urlato per il piacere di urlare ma per un desiderio di non dico giustizia di verità un po' come è successo a Poe faremo tutti la fine di Edgar soli morti su una tavola di legno trovati così urlando un nome vaneggiato poco prima di ispirare speriamo di no però è probabile ma sempre meglio avere la dignità di Edgar Allan Poe che non essere parte di questi microcircuiti e macrocircuiti amichettisti che vogliono solo i vostri soldi e vogliono curare i propri interessi e vogliono farsi belli gli autori piccoli con gli autori grandi per diventare a loro volta grandi vogliono la casa editrice grande perciò vanno là vanno dicono per farsi amica la casa editrice grande vogliono essere giurati di chissà quale premio vogliono vincere chissà quale premio vogliono stare dietro la telecamera intervistati da Rai 1 Rai 2 Rai 3 la 7 il cazzo e vi si frega invece noi preferiamo ottenere questi risultati portando avanti la nostra dignità essere una persona che si occupa di letteratura con tanto di dignità vuol dire mettersi contro il circuito amichettista leggete poi vi fa bene al cervello grazie a tutti